Siamo qui con Milena Vukodic, che la ringraziamo per averci concesso questa intervista. Vorremmo chiedere un piccolo ricordo su alcuni film cult che erano Bianco, Rosso e Verdone nella lavorazione con Carlo Verdone e con Lino Baffi in alcuni film tra cui Vornetti alla Irene. Sono due mondi diversi. La prima volta che ho incontrato Carlo è stata un'esperienza molto molto gioviale e simpatica e in generale lui è straordinario per cui qualsiasi cosa faccia è sempre magnifico. Mi ricordo di un periodo molto divertente perché lui aveva già allora la mania di fare le imitazioni ed eravamo lì tutti ad ascoltarlo perché allora non era ancora così conflitto e famoso. E invece con Lino è ormai un matrimonio di quasi vent'anni che abbiamo portato avanti a lì fuori anche del lavoro perché eravamo... abbiamo fatto dieci serie di ventisei puntate per cui tanto lavoro. Abbiamo visto crescere i nipoti, i figli e una bella esperienza che continua perché siamo continuamente... ci sentiamo abbastanza regolarmente.